Buongiorno, sono Vincenzo Cicero, insegno filosofia all'Università di Messina e oggi sono qui a presentarvi questo volume che è uscito da poco, che io ho curato per Morcelliana Scolè. Il volume è Sigmund Freud, un ricordo infantile di Leonardo da Vinci. Un ricordo infantile di Leonardo da Vinci, pubblicato nel 1910, è lo scritto in cui Freud si mette a nudo come non aveva fatto prima e non gli accadrà più di fare dopo. Quando, oltre a settantenne, in una lettera a Lusa Lomé giudicherà il volumetto come la sua cosa più bella mai scritta, si riferirà anche all'alto grado di coinvolgimento personale vissuto durante la stesura. Ma al di là di questa forte valenza autobiografica, documentata da me sia nell'introduzione sia nel saggio in appendice, lo scritto deve il suo fascino straordinario alla tesi centrale. Il mistero ambiguo del sorriso della Gioconda avrebbe la sua remota origine inconscia nel sorriso portatore di effusioni intense di Caterina, la madre di Leonardo. E così, dalla fusione ineffabile delle arcaiche fattezze materne con la fine fisionomia di Monna Lisa del Giocondo, Leonardo avrebbe distillato la magia demonica, il risarbo seducente, la tenerezza sensuale di questo sorriso. In quattro secoli nessuno prima di Freud, neanche Walter Peter, aveva proposto una interpretazione così poeticamente ammaliante e insieme persuasiva. E nessuno dopo di lui. Il volume presenta per la prima volta in Italia il testo freudiano con il tedesco fronte e offre una sezione di note filologicamente molto accurate. Un cospicuo apparato iconografico e un ricco arredo di indici, nomi, terminologia bilingue, concetti, bibliografia, completano il libro. Sigmund Freud Un ricordo infantile di Leonardo da Vinci Grazie per l'ascolto. Buongiorno. Grazie per l'ascolto.